Questo gioco contiene scene violente ed è sconsigliata la visione a chi è debole di stomaco, di cuore e simpressione facilmente. Buona visione. 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 Quando morirà, perdere la nostra possibilità di rivoluzione. Ma abbiamo bisogno di più inteligenza. Se volerci a Doan Dehar, dovrai mettere la tua vita a rischio. Vedete quello che puoi trovare prima. I sovioti hanno altri utoposti, non solo i quelli che hai visto. Avganistan è un paese grande. Io spero di diventare abbastanza conosciuto con i binoculari quando avvicinare il tuo prossimo passaggio. Come e dove lo fai? Beh, è da te. Da qui e fu, sei proprio. Grazie. Sei una legenda nei occhi di quelli che vivono sul battlefield. E' per questo che devi fare questa missione te stesso. Ma i 9 anni di te, e tornare, è un grande boss. E' come il costo che voglia. Io vi mando più inteligenza a la radio. Quasi che vengono. Non uno dei guardi di Miller non avvicinò. E' ero bene. Tutto che abbiamo trovato sulla scena, con i loro corpi... ...e i miei... ...l'idea di perdere. E tu sei la sola speranza di tornare a tornare. Sì, il tuo cornetto spunta leggermente. Si vede proprio poco, eh. Giusto quel pizzico da farti sembrare un pazzoide. Ora vai! Lascia la legenda tornare a vita. Do cazzo! Perché qua scompaiono tutti? Ok, però no. No! Ok, ok. Con calma. Così possiamo usare il cavallo come nascondiglio mobile. Ah, ok. Così possiamo andare da una parte o dall'altra. Va bene. No, però spero. Ho messo 60.000 indicatori. Marka eliminato. Marka eliminato. Allora. Noi dobbiamo andare qui. Grazie per i sottotitoli. Grazie per i sottotitoli. Sono dovrebbero essere guardati. Vedete con i sottotitoli. Lascia il vore nel centro del campo di vista. Per i sottotitoli. Per i sottotitoli. Per i sottotitoli. Sottotitoli. Per i sottotitoli. Puoi markare i soldi e i veicoli, per zoomare in con le finestre o camera. Adesso si è markata, vedete anche le posizioni sull'altra. Qualcuno si è markata? A scendere dal cavallo. Ok 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 Va bene Diamo un'occhiata qui Vediamo se c'è qualcuno Allora adesso è giusto Giusto per vedere un po' i comandi Così passiamo sopra Va bene Bene possiamo entrare Qua c'è qualcosa che Diamo un'alti Ok Troppo alto anche per Big Boss Non possiamo salire sul tetto Ok Noi dobbiamo andare di là però Possiamo comunque farci un giro Molto tranquillo Ok Ok qua per il momento Vedo solo lui Però è sicuro ci saranno altri Quindi a nessuno No Restare nascosti Se ne lavarti tramite la vista L'ho dito Ok Però interessava dare un'occhiata Da qua sopra Ok Siamo a due Vabbè Iniziamo a farli fuori Va che Potrebbe essere una cosa buona Giusto per imparare un po' le tattiche Questo sarà un po' un video Iniziativo Giusto per vedere un po' E non è Questo gioco non è Call of Duty O Battlefield E' molto tattico Molto Voglio provare a prenderlo Non lasciare un po' le tattiche Non lasciare un po' le tattiche Non trovare un po' le tattiche Non trovare un po' le tattiche Non trovare un po' le tattiche Nascondiamolo Qua mi sembra un buon posto Però io in realtà volevo Senti E se lo facessimo fuori E' brutto da fare ma In realtà lo volevo prendere e farlo fuori Però magari anche interrogarlo Sapete com'è Diamante Io prendo tutto Poi Vedremo cosa sarà utile e cosa no Qua si può scalare No Ok questa base diciamo La useremo un secondo Per fare un po' Vedere un po' come sono le Come il gioco Come possiamo imparare un po' A giocare Ok Evidentemente si Non c'è tantissima gente qua A cui qua Giustamente Ci possiamo appendere Classico Metal Gear Però mi è sembrato di Allora giusto per No Non c'è il vigore Possiamo stare appesi Quando vogliamo forse Mi sembra Perché nei vecchi Metal Gear C'era sempre il vigore Che era Un po' una rottura di palle Cerchiamo di Prenderlo Stavolta lui Ok E se ti interroghiamo Sputa il rospo No Ok Senti Ciao Ciao Adesso ti nascondiamo un minuto Ok abbiamo liberato il posto di guardia E' stato molto semplice Di solito Non è così easy Metal Gear Però questo pezzo I primi pezzi Sono sempre più semplici Per farti abituare Un po' Al gioco Vediamo Qua dentro Possiamo entrare per caso Si C'è qualcosa di utile Io vedo delle munizioni Che però non vuole prendere Metallo Questi sono tutti i potenziamenti Per la Mother Base Ok Allora ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Era un po' un inizio così Giusto per vedere com'era Faccio video di 15 minuti Così da Che tutti possono vederli Non siano eternissimi Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così lasciate un mi piace Un commento E condividete il video Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo con un prossimo video Un saluto a tutti da Vernastro Grazie